Oggi siamo qui in un nuovissimo video, oggi siamo qui su FIFA 19 per fare una challenge, ovvero la 192 Food Draft Challenge Ragazzi per questo video dobbiamo raggiungere almeno 5 mi piace per un prossimo video di FIFA 19 Quindi ragazzi iniziamo con il Draft, con i crediti e possiamo partire con la scelta del modulo Ok, allora i moduli sono abbastanza buoni però quello più buono di tutti è il 343 in linea Di giocatori raga ce ne sono usciti, come capitani ce ne sono proprio brutti, cioè potevano uscirci giocatori migliori Però noi puntiamo o alla Liga Santander o alla Premier Quindi iniziamo con William, poi proseguiamo con la TT Prendiamo Wesley If che fa intesa con William Ci facciamo tutto l'attacco e partiamo con le riserve Vediamo un po' chi c'è qui Niente di che però prendiamo Neymar noi Ok, partiamo con qualche riserva Vediamo un po' Uh, Pelè 99 ragazzi, buono Vediamo il prossimo Poi abbiamo Pepe e Robertson Raga, prendiamo Martial E lo piazziamo Ah, non fa intesa con Neymar Vabbè ce lo teniamo in cascino, in caso Vediamo qua che abbiamo delle pippe totali Angulu, è certo Poi Sono indeciso tra Tagliafico e Da Costa Però prendiamo l'overall più alto Da Costa Vediamo il prossimo Uh, Vinicius ci toglie un sacco di castagne dal fuoco Lo mettiamo qui Al posto di Neymar Perfetto Ci abbiamo anche Pelella Ci apriamo una Alex Arneraldo Arnold, raga ce l'ho nella mia squadra È abbastanza forte Noi ce lo prendiamo In caso non abbiamo DC buoni Andiamo con la S Che fa praticamente schifo Però prendiamo Fraser Che è della Premier League Poi Qui abbiamo Pugba Che ci piace Poi vediamo Pjanic Allora Cavendiamo l'overall più alto Ovvero Auar E poi lo Lo togliamo e mettiamo Pela Ok Perfetto Allora raga Qua sull'esterno destro Potrei mettere Alexander Però È appunto Uh, raga Pepe 96 Tozzo Però non fa intesa E noi dobbiamo puntare soprattutto all'intesa Quindi mettiamo Alexander Arnold Vediamo un po' Qui troviamo Un Van Dyke Toti Bello ragazzi Bello questo raga Bellissimo Qua abbiamo invece Uno schifo totale Prendiamo Cooper Che lo giriamo di qua E fa intesa Perché c'è questo qua Scozzese Poi Van Dyke Lo giriamo A destra Andiamo qua Sergio Ramos E Varan Raga Io prendo Varan Toti Raga Prendo Varan Toti E switch Perfetto Qua ci vuole una bella icon Prime Moments Vabbè Non è una Prime Moments Però è De Ghiatoti Che è comunque Una bestia Ok ragazzi Siamo Precisamente A 92 87 Dobbiamo un po' Cambiare la squadra Dobbiamo forse togliere questo E l'esterno sinistro Dobbiamo averne uno più buono Va bene Allora Proviamo Con la TT Vediamo Uh Sanchez Ragazzi Lo mettiamo Da qualche parte Va bene Qua Non togli niente Però ragazzi Se io faccio così Se io faccio così Che succede E più Più due Se giro Perfetto Giro Pogba E mi metto qui Awar Vediamo un po' Forse È meglio fare così Ragazzi Vabbè Allora Facciamo che Awar Ce lo mettiamo come Così Se no Proviamo così Ragazzi Proviamo così Che è meglio Va bene ragazzi Mettiamo Così 92 89 Proviamo col prossimo Ragazzi L'attaccante Dobbiamo tenerci Per forza Quello C'è Ci abbiamo Gnabry Che è molto buono C'è È velocissimo Gnabry Ragazzi Per Però Dai Prendiamolo Vediamo se qua Fai un T Se con qualcuno No Però È 91 Comunque Dai Ci devi Aggiustare Vabbè Gli argentoni Ragazzi Gli argentoni Ragazzi Morrison Ragazzi Gli argentoni Dai Qui abbiamo Un terzino Destro inglese Che potrebbe fare Al nostro Vabbè Facciamo così Ragazzi Proviamo a metterlo Qua Non fa Intesa Facciamo così Ragazzi E lo giriamo Se io faccio così Più 2 Ragazzi Più 2 Però siamo scesi Di valutazione Dai Ultimo difensore Dammelo Buono 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 Dani Alves Ragazzi Dani Alves Ragazzi Faccio così Ragazzi P3 E metto Varane qua Peccato Dai Se qua Non ci esce Un icon Ragazzi Purtroppo Il nostro intento Eh vabbè Ragazzi Abbiamo Gli oris Però O casillas Vediamo Se ci fa Qualche castagne Dal fuoco Non ci toglie Le castagne Dal fuoco Ragazzi Proviamo Con l'allenatore Però Non so Se riusciamo Allora La liga Vediamo Vediamo Proviamo Con Uno inglese Ragazzi Possiamo provare Con questo Che ci sanno Persone inglesi 91 93 Ragazzi No Abbiamo fatto Il 184 Però Ragazzi Un attimo Che provo ad aggiustarla Adesso Quasi Ragazzi Siamo quasi Purtroppo Non ce l'abbiamo fatta Di pochissimo Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Se volete Altri video Di FIFA 19 Draft O partite Mi raccomando Lasciate 5 mi piace Sotto questo video E adesso Ragazzi L'unica cosa Che vi posso dire Noi ci vediamo Al prossimo video Bella